Buon pomeriggio e buona domenica amici e amici sportivi appassionati della Serie A Femminile Team benvenuti da Marco Ruta al match valevole per l'ottava giornata di campionato scontro fondamentale per la lotta tra Alvezza, Tracomo e Sassuolo Eli, in mezzo, Karl Ernast, spizza, il pallone è buono, c'è il tiro e c'è la rete Delcomo al ventitreesimo in vantaggio con Vlada Kubassova realizza il suo terzo gol in questo campionato, l'ultimo proprio qui a Seregno contro il Parma Eli, rivediamo, in mezzo, Karl Ernast, spizza, sempre lei, poi buca l'intervento d'Ongus non può che approfittarne Vlada Kubassova, mette il pallone alle spalle di Lialonni rivediamo, non ci pensa su un attimo, Bellucci lancio lungo su Monterubiano, sbaglia Lipman, ancora Monterubiano, finisce giù, calcio di rigore calcio di rigore, cartellino giallo per Beatrice Beretta, rivediamo Beatrice Beretta che frana sui piedi di Valeria Monterubiano arrivato adesso la parata di Beatrice Beretta, salva il risultato e sbaglia Playdrup dal dischetto, rivediamo resta in piedi fino all'ultimo battuta corta, Playdrup in mezzo di prima deviazione e c'è la rete del pareggio Filangeri allo scadere del primo tempo arriva il pareggio del Sassuolo ed è uno a uno Playdrup fornisce l'Astist per Filangeri duro scontro con Borini il pallone resta lì Beccari su Picchi restituisce a Kubassova è grandissima parata di Lialonni si fa trovare pronta Picchi trova Kubassova libera non si fa sorprendere L'Onni Burini Nagy si trova questo pallone tra i piedi serve in avanti in posizione forse irregolare la compagna che entra in linea di rigore prova il tiro e la rete del 2-1 Tomaselli come contro l'Inter ci pensa Tomaselli a portare in vantaggio il Sassuolo dal primo assistente si porta a 2x2 con Al-Mailai la lancia sul posto ne salta anche Giulia Rizzon e poi fulmina sul primo palo Beatrice Beretta c'è il fischio braccio su e pallone in mezzo deviazione e pallone che corambola in porta e 2-2 arriva il pareggio del Como Greta Di Luzio pareggio al Como 2-2 va in mezzo c'è la spizzata della solita Giulia Carlernas e poi sembra quasi il pallone sbattere addosso Greta Di Luzio rivediamo poi Kubassova col destro pallone che finisce fuori e finisce anche la partita triplice fischio del direttore di gara Como 2 Sassuolo 2 Sassuolo 2